Si conclude anche per il settore giovanile del Valle Soverato la stagione 2017-2018 con questa serata di festa e siamo con un bel gruppo nutrito di giovanissime dell'Under 12, dell'Under 13 e delle altre categorie. In particolare chiamiamo in causa Adela e Carla, chiediamo a loro un commento su questa stagione, è stato il vostro primo campionato, se quello che vi aspettavate poi si è verificato, quindi le vostre sensazioni e le vostre emozioni. Siamo andati molto bene quest'anno, mi è piaciuto il campionato, abbiamo lavorato bene e siamo molto migliorate. Appunto come ha detto lei siamo migliorate molto, il campionato è stato bellissimo, abbiamo fatto tantissime cose che altri anni non avevamo fatto, ma bellissimo. Un momento particolare di questa stagione che ricordate con maggiore piacere? Una vittoria 3-0, ci ha ricordato molto bene perché le nostre avversarie non erano molto simpatiche e quindi la stessa cosa, è stata una gioia vincere contro delle antipatiche. E invece finita questa stagione, per l'anno prossimo, dalla prossima stagione cosa vi aspettate? Adesso ci sarà l'estate logicamente, però poi si dovrà ripartire a settembre. Sì, si ripartirà a settembre, spero che andiamo tutte e dobbiamo vincere un altro campionato. Spero di andare come quest'anno, bene come quest'anno e che ci stiamo tutte. Conclusione con una bella serata di festa per il Volley Soverato, per la stagione del settore giovanile 2017-2018 e siamo anche con Daris Amadio, responsabile del settore giovanile, nonché vice allenatore del Volley Soverato di Serie A2. Allora, tracciamo un bilancio di questa stagione che vi ha visto impegnati in vari campionati, logicamente rispettando l'età delle varie categorie, quindi una stagione molto intensa anche dal punto di vista degli impegni. Assolutamente, molto molto intensa. Poi con la Serie A, che quest'anno è stata un po' particolare, è stata bella intensa come stagione. Io sono sempre abbastanza critico e trovo tante cose che si potevano fare meglio, ma dico solo una cosa. Eravamo partiti il primo giorno con cinque ragazzine, di tutte e tra seconda divisione, under 13, mini volley. E adesso siamo finiti con questa serata qua, con un bel gruppo di mini volley, di 14, 15 ragazzine, under 12, 12 ragazzine consolidate, poi la seconda divisione, senza dimenticare Cidavoli, che ci ha dato una mano con l'under 16. Quindi io penso, questa è la seconda divisione, quindi penso sia stato veramente positivo. Abbiamo lavorato tanto per riportare una base. Abbiamo dato un bel calcetto per far ripartire il settore giovanile e speriamo che continui così. Ovviamente quando si parla di settore giovanile l'importante è soprattutto la formazione, i valori, l'aggregazione. Però è ovvio che anche i risultati hanno una certa importanza perché aiutano, spingono il movimento, aiutano a lavorare meglio. Sotto il profilo dei risultati comunque mi sembra di capire che avete ottenuto anche dei risultati abbastanza soddisfacenti. Sì, sì, come la serie A è un traino, i risultati della serie A sono un traino per le piccole, così la seconda divisione è un traino per l'under 16 e così per tutto. Con i mini volley abbiamo fatto una serie di concentramenti con altre società qui vicino perché ahimè la provincia di Catanzaro non offriva tanto come federazione, quindi siamo un po' attrezzati. L'under 12, considerando che erano due anni più piccole, erano 11 anni, abbiamo fatto l'under 13 con loro come campionato e alla fine sono arrivate seconde dietro a una squadra, la Stella Azzurra, che aveva la squadra per passare il turno, quindi va benissimo, hanno giocato tutte quante, sono divertite, impegnate tutte e soprattutto sono cresciute tantissimo. La seconda divisione è arrivata alla fase dei play-off, è arrivata quarta nella fase dei play-off, per tre punti mi sembra non abbiamo passato in prima divisione, però insomma rispetto alle stagioni precedenti ho visto le ragazze veramente contente, considerando che io ho fatto comunque due anni fa, ero qua e ho visto, le ragazze erano veramente contente. Sì sì sono contente, non sono solo contente, sono un po' particolari come ragazzi, tutte quelle della seconda divisione. Io devo fare un ringraziamento particolare alla seconda divisione perché loro sono state veramente il traino, è stata una scommessa un po' quest'anno e loro sono le prime che hanno creduto in questa nuova scommessa. Senza di loro tante volte, anche le altre, era un po' più difficile, quindi devo veramente ringraziare loro per come si sono comportate, come hanno creduto in me e nel nuovo progetto. Un ringraziamento particolare per la collaborazione svolta in questi anni e per tutti gli sforzi che voi fate. Questo è per voi. Grazie, grazie. Alla serata di festa conclusiva del settore giovanile del Valle Soverato partecipa anche il neo allenatore del Valle Soverato della Serie 2 femminile, coach Bruno Napolitano, ufficializzato da pochi giorni alla guida tecnica della squadra del presidente Matozzo. Il presidente quando ha ufficializzato il suo ingaggio ha detto sono orgoglioso di avere un calabrese alla guida di una squadra calabrese, quindi è un motivo ancora di più di soddisfazione e anche è un motivo per spingerci oltre. Le prime impressioni di questi primi giorni da allenatore del Valle Soverato di Bruno Napolitano? Le impressioni sono quelle che porto dentro da sempre, perché per me questa è casa mia, nel senso ci sono nato, ho soverato, per cui per me è un sogno che si realizza, quindi è reciproca la cosa tra me e il presidente Matozzo. Ci siamo più volte negli anni avvicinati, lasciati, avvicinati, è stato un po' un rapporto quasi tra due fidanzati che si sono desiderati e finalmente arriviamo alla conclusione di quello che per me personalmente è veramente, ecco dicevi motivo di orgoglio, vale per me altrettanto, quindi poi le impressioni, stiamo lavorando adesso per cercare di costruire una squadra che possa essere una squadra che dia risultati, possa dare le giuste soddisfazioni, non è facile perché quest'anno cambieranno le regole, per cui una straniera sola ha complicato parecchio quelle che sono le sistemi di mercato, ma le idee sono quelle di fare una buona squadra e di lottare comunque per posizioni di vertice. Stimoli tanti, ovviamente si lavora a bracetto con il presidente, dicevamo ci sarà una sola straniera, cambierà molto probabilmente anche il format di questo campionato, quindi sarà un'avventura nuova un po' per tutti, un motivo ancora di più per cercare di impegnarsi non solo in sede di Volley Mercato perché sicuramente sarà un'altra stagione intensa come lo è stata quella precedente della Serie 2. La difficoltà secondo me sta soprattutto nel fatto che non abbiamo punti di riferimento rispetto agli anni passati, cioè nel senso che cercare di capire qual è la squadra giusta per fare il campionato di vertice non è semplice non avendo dei riferimenti proprio perché come hai detto giustamente tu cambiano il format e ci sarà una sola straniera, quindi sarà un po' per tutti una sorta di salto nel buio. Sicuramente voglio dire, considerando che alla fine Sovrata ormai è una realtà consolidata da più anni, non ho anno di Serie 2 per cui questo sicuramente può costituire un vantaggio in termini di esperienza. Qualcosa cercherò di portarla anch'io per quella che sono stato il mio trascorso e quindi le mie esperienze e cerchiamo di creare un giusto mix per comunque garantire quelle che sono le ambizioni di una società che ovviamente da tanti anni lotta al vertice in a due e vuole farlo anche quest'anno. Quindi da questo punto di vista mi sento di garantirlo perché quella è l'idea e quello è l'obiettivo. Dottoressa Ilaria Matozzo, grazie per la preziosa organizzazione, collaborazione dedicata a questo sport. Grazie tanto. Grazie a tutti.